Allora vogliamo chiamare i primi ospiti? Sì, Mary, due grandi attori, due grandi artisti, due grandi amici Già, sono stati ospiti da noi, però stasera sono qui giustamente per dire i loro nuovi lavori Sicuramente Allora, signore e signori, Anthony Calozzi e Giussi Fortunato Applausi, vai! Forte, forte! Prego ragazzi Ciao Prego, faccio... ciao Allora c'era un bacio pure a me Ciao ragazzi Allora, io devo spendere due parolini su di voi Perché io ho avuto modo di vedervi recitare Vedervi veramente sulla scena del film che abbiamo girato in corto La violenza ti segue dalla regia di Enzo Sorrentino Devo fare i complimenti perché veramente siete due grandi attori Grazie Due grandi personaggi, ma al di fuori siete due ragazzi speciali Ti ringraziamo per i... Tutti e due I complimenti di cuore perché ho visto recitare Bravissimo Allora Allora, se Lian è pronto e mi può passare i video Lian I video Video Per far vedere i loro lavori precedenti E quello attuale È l'ultimo che abbiamo fatto Quando l'avete... Vete fatto? Un paio di mesi fa Va benissimo Va benissimo Eccoci qua Eccoci qua Il morto che parla Il morto che parla Dalla regia di... Enzo Sorrentino Si è morto Perché si è morto? Io Eccola qua Io Questo sei sempre tu Sempre io Perché si è morto? A me Ma si sente, ne? Maschka, maschka Qua è... Ma stavano dormendo? No Stavano dormendo Quanto... Quanto tempo fa questo l'avete... L'avete girato questo? L'anno scorso All'anno scorso Mary ci sei... Ci sei anche te qua nel... È la moglie del morto Ah, per la moglie del morto Mary? Si, si Ah, ecco Adesso mi sembri che stai meglio però qua Ti sei svegliato? Si Ti sei svegliato? Si Sei risuscitato? Ma ma ci dimentichiamo che stai Quando vuoi? Apriate giunto Mary, come ti sei arrabbiato qua? Perché ti sei arrabbiato? Oh In ultimo Allora, da Frosinone Frosinone, provincia di Roma Pensate un pochettino Che viaggio sono fatto tutti questi attori Questi cantanti da parte del ritardo Vabbè Allora, come ti sei sentita in questo porto? Allora, girati Guarda Una cosa bellissima Guarda Stupenda Scusate l'emozione A me non c'è problema Ti sei una bella esperienza Ti sei emozionata Ti sei molto emozionato È stata l'emozionata È stata l'emozionata È stata l'emozionata È stata bellissima Ma poi ci saranno anche altre cose in futuro Abbiamo un progetto Ci saranno anche altri lavori Ci sono state sudate Tantissime Purtroppo abbiamo fatto questo Avete sudato? Avete sudato? Tantissime Tantissime Allora, andiamo con il cortometraggio Il morto che parla Come è andata? È stato molto bene Io vorrei quasi chiedere a questi amici Questa da qua Allora, chiediamo a te Vogliamo salutare l'amico nostro Enzo Sorrentino Il regista Allora, non pensavo Cosa volevo dire? Passate l'emozionata Niente Siete emozionati Siete emozionatissimi Siete emozionatissimi Allora, l'amico Antonio Valozzi Giù si porta un atto Alla prossima Va bene? Un applauso Buonasera La metrile del tuo successo Ideata a Enzo Sorrentino Che conduzione appunto del Sorrentino E con me il famicino da Napoli Antonio Valozzi Il morto che parla Eccola qua L'attore che ha fatto molti Il morto pedaggico Questa è la sbilata Questa è la posizione La metrile del nostro successo Allora Ha conciuto poco un baffetto E' fuori vostro Va bene? Ok E' capica con un spesso Giudi Fortunato Giudi Fortunato Un applauso Eccola qua Eccola qua Un applauso Giudi Fortunato L'attrice del morto che parla Va di Porto Pedraggi Aspetta Ti notare Con la tua Bellezza La persona che tra i paoli Complimenti Diciamo Diciamo l'età Eh sì Giustamente Sei bellissimo 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni Un applauso E' il nostro amico Antonio Galozzi Eccolo qua Vieni Galozzi Eccolo qua Il microfono Un applauso Allora Antonio Diciamo Diciamo Cosa Cambiando le strade Vi hanno conosciuto Vi hanno Tutti Guardi Aspetta Il tuo paese Che sarebbe A Fosinone Dicinome A Frosinone Frosinone Mere quella sei tu Mere quella sei tu Mere facci qualche domanda La Mere è sempre da sempre Per chi vuole votare Antonio Galozzi Sempre 3 2 8 26 86 5 1 9 Mere Bravissima Bravissima La Mere La Mere da anche i numeri Meriti anche i numeri Dai E allora Bravi Giocateli al bambolotto Sì Brava 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 Allora qual è quello Quello che vuole c'è Tottorio qual è Io dico Galozzi quanti voti ha avuto In tutta la campagna 260 260 260 Galozzi Antonio Galozzi Antonio Galozzi Un applauso Abbiamo un primo E un secondo posto Allora Chiamiamo Ciro Siveola E poi l'altro Ettoni Antonio Antonio Calozzi Antonio Calozzi Eccolo qua Allora Ciro Vieni vicino a noi Tanto con il microfono Va bene Mò Diamo prima La modazione Questo è un altro attore Questo è un altro attore Lui ha due pizze Due pizze E due bibide A scelta A scelta Ragazzi E allora Cosa dirvi Anche gli auguri Per Natale Per voi Da chi mi trova A voi un attimo Se vuoi ringraziare Grazie Per la pizzeria La pizza La bella Piana Che mi ha dato Questo coltività Di mangiare la pizza Solo due pizza Allora Ciao Ciro Alla prossima Ciao Ettoni Alla prossima Grazie Ah si Per chi ha Mantoci la punta del corpo Scusate Scusate Va bene Grazie Ci portiamo a nord A nord Qua dove siete Qua dove siete A girare L'anteprima Di Benvenuti in allegria Ah benvenuti in allegria Ma non tanto Per l'allegria Quello sei te Sì sì Sono io Quanto è bello Guarda che Quanto è bello Quanto è bello 15,50 No Ecco Adesso Adesso è arrivato Il momento Di due attori Due attori Sono bravi Sono bravissimi L'ho lavorato già Lei è bellissima Bene Quel signore Lo sembra di conoscerlo Lo conosci Mi sembra di conoscere Anthony Gallozzi E Giussi Fortunato Vai Buonasera Ascettiamo un pochettino Ecco qua Non si è acceso Buonasera Sono Giussi Fortunato Vengo da Frosinone E sono un'attrice Insieme a mia compagna Anthony Gallozzi Buonasera Sono Anthony Gallozzi Vengo da Frosinone E sono un attore Con la mia compagna Giussi Fortunato Allora Noi vi siamo onorati Questa sera Ci state onorando Su questo bellissimo emittente Noi abbiamo fatto in modo Che tra poco Passerà qualche foto E voi spiegherete Con chi avete lavorato E quello che avete fatto Se Liane è pronto Dalla regia Va bene Qua sono io E venuta da cameriera Molto bene qua Facevi la cameriera? Sì Vedi pagate bene Allora Adesso Ci sta sicuramente Qualc'altro lavoro Sì Forse Qualc'altro lavoro Sicuramente Sì Stai in cantiere? Sì Non possiamo dire Non possiamo dire Non possiamo dire Si può dire ancora niente Si può dire ancora niente Vedi Mi ha sorpresa Siamo tutto dopo Tutta a settembre Io devo fare un ringraziamento In particolare A chi ci ha scoperto Al nostro Enzo Sorrentino Mi associo Ci associamo E la mia managgia Neri Fabroci Eh la merita Meri Bravissima Meri Bravissima Meri Bravissima Comunque poi loro Ritorneranno di nuovo A settembre Sì a settembre Per dirci I nuovi lavori Che poi sarà Nel quarto Ok Io faccio il saluto A tutti quanti Tutti i miei amici A mia famiglia Va bene Amici Va benissimo A tutti i miei saluti Io devo Devo fare sinceramente Un saluto particolare A mia amica del cuore Alfreda Trinca Ti voglio un mondo di bene Alfreda Mi associo Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao 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 Eccoci qua Eccoci qua Dopo questa bella carrellata Carrellata di foto Di belle cose Video foto Video foto Bravissimi Veramente Bravissimi Allora in cantiere ci sarà qualche altra cosa? Sì sì Possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Per il momento no Bene Non lo diciamo quasi mai Allora c'era quello là Della violenza sulle donne Sì Che loro hanno fatto Dove ci stai anche tu Grazie Grazie a Meri Dove sta anche Giacomo Casaburi Che lo salutiamo Sì La grande Tina Piccolo Sì bravo Un bacione anche forte E tanti attori Un bacione forte forte A tutti gli attori Che hanno fatto Un recitato Adesso Enzo l'ha mandato al montaggio Sì Come sarà pronto Noi faremo una trasmissione qui Sì E presenteremo tutti gli artisti Tutti gli artisti E tutti gli attori Che hanno preso parte Hanno partecipato a questo E faremo vedere Il cortometraggio Che è stato bellissimo Bellissima Io devo salutare La nostra Giussi Giussi Mannino Da Palermo Da Palermo E lei stava nel cortometraggio Il morto che parla Ah sì Sì C'è quella che stava in mezzo Quella che stava in mezzo Ah quella che stava in mezzo Va benissimo Eravamo le due cognate E poi c'era la Meri Che faceva la moglie La moglie del morto La mia moglie Ah Meri La moglie di Antonio L'hai fatto morire Meri No poi l'ha fatto risuscitare L'hai fatto risuscitare Bravissimi Allora Io vorrei ringraziare in particolare In parte Enzo Sorrentino Grazie a voi Ciao Enzo Grazie a voi Ma grazie anche a voi Ci mancherete il lunedì Sinceramente Ma non per morto Non per morto A me in particolare ci mancherete Perché Anche a voi ci mancherete Passava quell'oretta In allegria La sera non la vedevo più il lunedì A una certa ora Sì Andavo a vedere il programma Aiaiaiai Bravissimi Tutti i lunedì Bravissimi Ringrazio la mia sorellina Meri Grazie a voi Ringraziamo te Ringraziamo Antonio E tutti quelli che ci conoscono Va benissimo E tutti quanti Tutti quanti Va benissimo Allora noi Un saluto a tutti Va bene Antonio Ti abbracciamo E ti salutiamo forte forte In bocca al lupo Perché te lo metti E sei bravissimo Ciao 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 Alla gli do il bacio Ciao Ok Lasciamo un bell'applauso Questa bellissima Questi bellissimi ragazzi Bellissimi attori Allora Ciao ragazzi Alla prossima Vi aspettiamo